Cerchiamo di sopperire a quella che è stata la mancanza, secondo noi, di questa amministrazione. Partiamo da un concetto molto semplice, e cioè conoscere per decidere. Il modo migliore per conoscere è capire bene le ragioni del sì e del no. E quindi è la prima volta in questi mesi che noi proponiamo, che siamo gli unici, che abbiamo proposto un incontro dove siano presenti i fautori del sì e i fautori del no. Lo facciamo proprio perché la gente possa conoscere al meglio la situazione e poi anche perché noi siamo stati coloro che hanno proposto di fare un referendum vincolante alla volontà popolare per decidere se fare o meno questo biodigestore. Questa proposta, che era contenuta in Unione dei Liberi del Consiglio di ottobre, ci è stata bocciata. Ci è stata bocciata non solo dalla maggioranza, ma anche sorprendentemente dal Movimento 5 Stelle, che dovrebbe avere nel DNA proprio la centralità della volontà popolare. Questa è la condizione per cui noi oggi siamo andati verso questa direzione. Gli invitati sono l'amministratore unico di Green Factory, cioè il dottor Tiviroli, e per contro il presidente dell'associazione, diversamente, e cioè Andrea Torcoletti. L'invito è stato mandato loro e per conoscenza anche all'amministrazione perché si attrezzino in modo di presentarsi in questo incontro con almeno tre tecnici, anzi con tre tecnici per parte, perché l'incontro non è un incontro politico, ma è un incontro tecnico-scientifico, proprio perché la gente non ha bisogno di polemiche o di discorsi campati per aria, ma di fattualità, di discorsi concreti che riguardano quindi cosa comporta la costruzione di un fabbricato di quelle dimensioni. Mi aspetto un esito positivo perché mi rifaccio le parole del presidente Tagliolini di Marche Multiservizi, che è poi la capofila di Green Factory, che propende, si fa paladino del coinvolgimento della popolazione, dell'informazione della popolazione, e anche le parole di Andrea Torcoletti, il quale ha sempre ribadito la fondamentale importanza dell'informazione popolare e della volontà della popolazione nella decisione su questa costruzione. Allora, nell'invito noi abbiamo chiesto se è possibile di fare l'incontro o la prima o la seconda settimana di marzo. Al momento non abbiamo ancora ricevuto nessuna risposta, ma come ho detto prima siamo fiduciosi che questa arriverà entro qualche giorno.